cosa ho sentito oddio hanno sentito queste orecchie ma me l'immaginavo ragazzi vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina non siete obbligati ma sappiate che qui è tutto gratis l'Inter è di tutti gli interisti questo canale a breve ci sarà una nuova rubrica che si intitolerà cialtrone all'angolo non è una mia idea sono sincero non è una mia idea è un'idea di una persona mi ha detto Giuse Dillero che a breve ci sarà una nuova rubrica cialtrone cialtrone all'angolo di sicuro in acquisizione non c'è né Lassi né Bertarelli e né la scalata della cordata italiana al Monte Bianco vai tranquillo di sicuro ve li hai detto te non ci sono in acquisizione ma ci sono i sauditi perché qui dal 2022 si parla di consorzio di sauditi di fondi quindi cialtrone all'angolo sarà una rubrica vediamo quanto successo riscuoterà la lanceremo a breve quindi al cambio di proprietà lanceremo la rubrica cialtrone cialtrone all'angolo le parole di la russa ragazzi torniamo seri le parole no ma sto serio ci sarà davvero la rubrica cialtrone all'angolo non lo so dove è il cinese ragazzi è inutile mi bombardate i telef non lo so dove è il cinese non lo so fatevelo dire da chi lo sa dove è il cinese da chi fa informazione non lo so dove è il cinese attenzione alle parole di la russa attenzione parole molto ma molto pesanti ed incisive te le vado a leggere posso leggere i giornali anche io oggi lo faccio gratis dai permettimi di leggere un po' i giornali anche a me mi sento famoso quando leggo quando leggo poi mi metto una tazza qui guarda ce l'ho anch'io una tazza ti metto una tazza e mi sento famoso ma nonostante tutto e tu sia famoso 200 in live a mezzanotte io ho 420 persone in live ragazzi a proposito mi ero scordato di ringraziarvi live improvvisata a mezzanotte 420 cristiani in live e di là saranno famosi a malapena erano i 200 la gente si è stancata di sentire le tue alzate allora torniamo a noi torniamo a se mi raccomando ci tengo all'angolo del cialtrone cialtrone all'angolo scusami cialtrone all'angolo è una rubrica su cui punteremo tanto attenzione allora andiamo un po' la russa il vincolo della sovrintendenza sullo stadio di San Siro si aggiunge al vincolo dei milanesi che non vogliono abbattere San Siro anche se non ci fosse il vincolo San Siro è la scala del calcio è come abbattere a Parigi la torre Eiffel io continuo a dire che a San Siro non va abbattuto oggi saremmo a metà strada io proponevo di lasciare San Siro e di costruire a fianco un nuovo stadio ancora si può fare se Inter e Milan lo volessero altrimenti sentite bene il comune si metta la mano sulla coscienza e discuta con l'Inter che magari è d'accordo a prendersi da sola San Siro attenzione cosa ti ho detto sempre era questo che le volevano fare poi è normale se gli mettono bastoni tra le ruote da tutte le parti è normale devono pensare a una scelta diversa ma a Los Angeles è solo un piano C l'Inter non vuole andare a Los Angeles sempre nel frattempo può essere il Milan andare a giocare da un'altra parte ma lo sappiamo che il Milan va a Monza dove va a Lodi dove va a giocare in Milan morale dice la russa tornate indietro lasciate San Siro e costruite insieme un nuovo stadio in caso a fianco a San Siro quindi rimaniamo lì a Milano dice la russa il Inter deve rimanere a Milano per quello riguardo ai diritti tv io sono letteralmente schifato ne parlavo anche prima con i ragazzi nella nostra chat privata quindi ragazzi tutti noi tifosi dell'Inter prepariamoci ad uno streaming stile Burundi perché le partite saltano continuamente perché fa ridere ragazzi è una cosa che fa ridere nel 2024 quasi uno streaming primordiale cioè veramente stile Burundi con tutto rispetto degli abitanti del Burundi ci mancherebbe prepariamoci a questo schifo anche perché hanno voluto tenersi il potere non hanno ceduto alle offerte dei fondi rifiutando secondo me nemmeno ascoltando le offerte praticamente quindi da un punto di vista dello sviluppo il calcio italiano con questa mossa Sky da Zone ci rimette tantissimo anche perché quest'anno la Serie A prenderà 900 milioni 40 milioni meno dell'anno scorso e 340 milioni rispetto meno rispetto a due anni fa te lo ripeto la Serie A prenderà 900 milioni 40 meno dell'anno scorso e 340 meno di due anni fa capisci e così di cosa vuoi ragionare con questa roba politica diciamo chiamiamola così senza dettrarsi troppo in cose un po' fastidiose ma dove vuoi andare con il cinese come fai andiamo ragazzi per quello riguardo questo canale da inizio 2022 che parliamo di sauditi di fondi quindi ora perché siccome cominciano ad avere paura di avere la sudarella ma avevano detto piffe due anni fa piffe piffe di sicuro non c'è Radrizzani e Bertarelli a chiudere l'operazione non ti preoccupare nel LAS il Rana Dive non ci sono Digital Beats tutta non ci sono quello avete detto voi cominci a sudare ora colpa di un ventilatore leva la maglia dalla caldaia perché chiamo vigili ora ora leva quella maglia dalla caldaia perché è periodoso perché non si tenga le maglie alla caldaia e poi ascoltare sicuro non c'è Bertarelli in acquisizione mai tranquillo quello è poco ma è sicuro quindi ragazzi non lo so dove è il cinesi ci sentiamo più tardi ciao si suda colpa di un ventilatore mettitelo sulla schifania mettilo in cucina oddio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.